Terza giornata di ritorno e prima trasferta del 2013 per Gesangas Lemura Lucca. Le ragazze di Cucci Diamanti faranno visita al Cus Cagliari domenica 20 gennaio alle ore 18. Match sulla carta abbordabile per Lucca che arriva dalla bella vittoria del Pala Tagliate. Ma ricordiamo bene come nella gara di andata le isolane misero in difficoltà alla compagine bianco-rossa che vinse non senza soffrire. Per Cagliari quella del 28 ottobre scorso fu la prima sconfitta in campionato e da quel giorno la formazione di coach Fioretto che a dicembre ha sostituito Xaxa non è riuscita più a vincere. Squadra molto giovane il Cus è trascinato dalla coppia svedese Edelbrink-Alvarsson e dalla guardia Rioli a garantire dinamicità le ex bianco-rosse Strulli e Fabianova insieme all'ala Godol. Chiudono il roster le ali Visconti e Brunetti e le guardie Piero Panne e Oppo. E che la sfida di domenica non sarà semplice lo dichiara anche coach Diamanti che afferma Abbiamo visto come è stata tosta la gara di andata e anche lo scorso anno Cagliari ci ha fatto soffrire Dobbiamo stare attenti come del resto contro ogni avversaria in questo campionato e mantenere alta la concentrazione Questa settimana abbiamo lavorato intensamente e vogliamo affrontare la partita nel modo giusto ha concluso coach Diamanti